Carissimi fratelli e sorelle, oggi, venerdì 5 agosto, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo 16, 24-28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio, infatti, avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tre presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Buon ascolto della lettura del commento al Vangelo a cura di Don Luigi, Maria Epicoco intitolato Cosa significa concretamente essere discepoli di Gesù? Cosa significa in termini estremamente concreti essere discepoli di Gesù? A questo proposito sembra rispondere alla pagina del Vangelo di oggi. Essere discepoli di Gesù potremmo dire che comporta due movimenti esistenziali essenziali. Il primo è rinnegare se stessi. In senso letterare può sembrare una parola brutta o un modo di farsi male, di non valorizzarsi e così via. Ma il vero significato di rinnegare se stessi è nella capacità che dovremmo tutti avere di essere liberi da noi stessi. Chi sono le persone veramente libere da se stesse? Quelle che sanno anche dirsi dei no. Rinnegare quindi è sapersi dire dei no. Il secondo tempo del discepolato è nel prendere la propria croce e seguire Gesù. Il verbo prendere implica la scelta di assumersi la responsabilità di ciò che c'è nella vita. Significa smettere di subire le cose e affrontarle. Si è cristiani quando si affrontano le cose senza più vittimismi, specialmente tutte le cose che ci sono accadute e che non abbiamo scelto. E una volta fatto questo, che si fa? Il Vangelo dice che bisogna seguirlo. Ciò sta a significare che non sappiamo fin dall'inizio dove stiamo andando e qual è la cosa giusta da fare. È un percorso quotidiano in cui di volta in volta capiamo cosa è meglio fare, senza improvvisare, ma seguendo Gesù passo passo.